Filippo Loiacono, artista palermitano alla Biennale di Venezia. Come nasce questa esposizione? Sì, buongiorno. Io ho avuto il piacere di apprendere della comunicazione di un noto critico d'arte, Giorgio Grasso, che guardando le mie opere ha avuto il piacere di comunicarmi per tempo che possiamo esporre questa opera alla Biennale di Venezia, a Palazzo Zenobbio, al Periglione Armenia. E saremo esattamente ospiti dell'artista internazionale Miro Persoia. Con il noto critico Giorgio Grasso saremo presenti alla Biennale di Venezia dal 13 di agosto al 10 settembre. Lì presenteremo un'opera inedita, che è un'opera che io orgogliosamente porterò, perché è il mio amore per la mia terra, per la Sicilia, per Palermo, e quindi anche quest'opera parlerà molto di Palermo. Una Palermo anche in qualche modo che va oltre l'immagine, perché parleremo di una Palermo forse che guarda al futuro, che è dove, attraverso lo scorcio del nostro simbolo emblematico del Teatro Massimo, e quindi con il mare che arriva proprio sotto le scale del teatro. Quindi questa città che è pronta per l'accoglienza. Ecco che quindi sarà un'esposizione che parlerà anche di, anticiperà di Palermo, capitale della cultura.